Camminare fino a un luogo che conduce a un altro luogo, dove 500 e 900 si incontrano in una scatola bianca, fatta di trasparenza e di movimenti di stoffa che esprimono tutto il pathos dei sentimenti di Michelangelo Bonarroti. Un uomo rinascimentale, ma forse tali e quali a quelli dell'uomo moderno, tanto da riuscire a sposarsi così bene alle musiche di Dimitri Sostakovich, da farli sembrare contemporanei. Questo è Sweet Michelangelo, uno dei tanti interessanti lavori del collettivo teatrale forlivese Città di Ebla.